siamo all'inizio di via alessandro terzi questa è la famosa strada tutta dissestata cerchiamo un po il rumore si sente il rumore del movimento delle mattonelle quando passano le auto questo per conto mio è un lavoro che è fatto molto male e probabilmente l'ufficio tecnico neanche si è interessato di come venivano eseguiti i lavori non è solo questo pezzo qui sono tutte le strade fatte con questo sistema si sentono i movimenti delle piastrelle che di fatti sono tutte mobili si sentono i lavori Grazie.